Silvana Comaroli, il decreto enti locali lo possiamo definire decreto salva Roma? Assolutamente sì, oppure anche lo possiamo definire un provvedimento vergognoso, perché una cosa indecente che si vede in questo provvedimento non si è mai vista. Perché considerate dare 4 miliardi a Roma, perché? Perché lui negli ultimi anni ha gestito male le risorse dei cittadini. E attenzione, questi 4 milioni di questa mala gestione ricadranno su tutti, dai cittadini che abitano al nord a tutti gli altri. Noi abbiamo fatto una battaglia estenuante, ma la risposta è stata non ce ne frega niente, bisogna fare così. Ecco, noi questo atteggiamento non lo tolleriamo, perché un governo decente, non dico bello o bravo, ma un governo decente dovrebbe premiare gli amministratori che gestiscono bene i soldi pubblici, perché sono soldi di tutti i cittadini. E invece cosa fa questo? Premia proprio queste persone in questo modo vergognoso. Quali sono i debiti di Roma Capitale? Ma sono quelli tutti dovuti ai servizi pubblici. Praticamente noi stiamo pagando tutti i dipendenti pubblici di Roma, che gli paghiamo la presenza, perché loro arrivano, sono presenti, li paghiamo, anche se poi alla fine non fanno nulla. Queste cose non vanno bene. È per quello che invece abbiamo appoggiato un emendamento dove obblighiamo il Comune di Roma a liquidare tutte queste società satelliti del Comune di Roma, che sono poi quelle che generano tutto questo debito, a svendere, a darle in mano ai privati, che chissà, forse non dobbiamo ritornare qua a ridare altri 4 miliardi al Comune di Roma. E un'altra cosa ci tengo a dire. Noi abbiamo presentato, faccio questo esempio, un emendamento che dava 10 milioni, non miliardi, 10 milioni contro i 4 solo a Roma, 10 milioni da distribuire ai Comuni virtuosi, a quei Comuni che non avevano aumentato le aliquote dell'Imu. La risposta? Non ci sono soldi. Io non so più cosa dire. Noi continuiamo a battagliare perché ho notato che siamo gli unici che difendono tutti quegli amministratori che gestiscono invece in modo oculato i cittadini, i soldi di tutti i cittadini.